Anche quest'anno si è rinnovato il rito della deposizione della corona di fiori alla stele della Madonna Immacolata di piazza Corrado Rizzona. Alla presenza di autorità militari, civili e religiose, il vicario foraneo Don Umberto Bonincontro ha letto l'atto di affidamento della città alla Madonna. L'atto di affidamento a Maria, Maria, madre di Dio e madre nostra, ci affidiamo a te, a te affidiamo le nostre famiglie, la comunità cristiana dove la storia umana diventa storia di salvezza, la nostra città perché la convivenza sia fraterna, serena e solidale. Accompagnati dalle note della banda musicale cittadina, i vigili del fuoco del distaccamento di Modica hanno provveduto a posizionare la corona di fiori ai piedi della statua, avvalendosi di una lunga scala, mentre le sirene accompagnavano il gesto. Nutrita la partecipazione dei fedeli che si sono affezionati a questo pio gesto cittadino, che si perpetua ormai da alcuni anni.